Dottoressa Anna Salvati, lei è una delle anime promotrici di questo convegno. Sì, sono onorata questa possibilità che ci è stata fornita anche da parte della vostra splendida isola e dall'accoglienza che abbiamo ricevuto dagli avvocati schitani, che saluto con grande affetto e con grande riconoscenza per essere qui oggi. Oggi ci occupiamo di diritti umani, ci occupiamo quindi di persone, perché i diritti umani sono preesistenti alla legge stessa, il legislatore ne prende atto, ma i diritti umani siamo tutti noi e tutti noi abbiamo il dovere di vigilare sul rispetto dei diritti e anche di individuare nuove forme anche di diritti umani che debbano essere tutelate e che magari attualmente il legislatore non ha preso in considerazione. Ecco, oggi come siamo messi su questo punto di vista? Come stiamo andando avanti? Ci sono degli ambiti in cui effettivamente sarebbe necessario un intervento da parte del legislatore. Mi riferisco in particolare al diritto alla vita e anche al diritto di poter scegliere per la fine della propria vita una fine dignitosa. È infatti recentissima la sentenza della Corte Costituzionale che in qualche modo cerca nuovamente di richiamare l'attenzione del legislatore italiano a una normazione più precisa, più attenta. È un campo veramente molto delicato e molto difficile di intervento, però è necessario. Diciamo, lo impone anche l'evoluzione dei costumi e le esigenze della collettività. Avvocato Mariella Fiorentino, qui ad Ischia per un importante focus sui diritti umani, l'ordine forense si riunisce per discuterne. Sì, siamo veramente molto anche onorati di essere qui ad Ischia perché Ischia è anche un simbolo di uno dei diritti umani più recenti che è il diritto all'ambiente, da poco codificato e inserito nella nostra Costituzione, nell'articolo 9 della Costituzione, dove è previsto un dovere per lo Stato di tutelare l'ambiente, gli animali e l'ecosistema per le future generazioni. Ed è un diritto umano da veramente molto poco. Quindi se questo convegno ha come argomento, come oggetto, la convenzione dei diritti dell'uomo nella società, penso che i diritti umani possano essere perfettamente, diciamo, espressi in quest'isola proprio nella diritto all'ambiente salubre. Quindi siamo onorati, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha tenuto moltissimo questo convegno e la Commissione dei diritti umani, diciamo, si è spostata molto volentieri proprio per portare i diritti umani a conoscenza anche attraverso quest'isola.